Eccoci qua di nuovo, buona domenica, Formula 1, qualifiche di ieri in attesa della gara di oggi, male, male le Ferrari. Paul per Norris davanti al suo concorrente per la conquista del Mondiale Verstappen, terzo Hamilton, male le Ferrari, nono Leclerc senza tempo, decimo Sainz che va a sbattere nel Q3. Una Ferrari che sembrava potesse anche a Singapore dare qualcosa, una Ferrari che invece tracolla e onestamente con grande dispiacere la troviamo a soffrire. Speriamo che oggi nel Gran Premio ci sia qualche rivoluzione o qualche sorpasso o qualche errore degli avversari che diano una mano ai nostri due piloti della rossa che possano farcela a qualificarsi a punti e riuscire ad avere la possibilità di rimanere agganciate con un lumicino, un barlume per la lotta per il Mondiale. Vi ringrazio sempre per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra, iscrizione gratuita e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!